11 aprile 2020 ormai è passato un anno da quando il ministero dell'istruzione in collaborazione col corpo delle capitanerie di porto ha bandito il concorso cittadini del mare dopo un anno 11 aprile 2021 ricordiamo le opere vincitrici grazie a tutti grazie a tutti grande impegno passione e partecipazione da parte di tutti quanti i ragazzi accompagnati nel loro percorso sia dai docenti che dagli uomini e le donne del corpo delle capitanerie di porto grazie a tutti